Buonasera, mi sentite? Benissimo, vi chiedo scusa per l'attesa, ovviamente i problemi tecnici arrivano sempre nel momento in cui non devono arrivare e quindi abbiamo avuto e abbiamo ancora adesso alcune difficoltà dalla regia. Noi proviamo a iniziare adesso cercando di avere la fortuna che ci prego, insomma. Io vi do il benvenuto a tutti, io mi chiamo Silvia Venturin e questa sera ho il piacere di partecipare come medicatrice a questa serata dedicata al tema Covid-19. La serata vuole essere un momento aperto al confronto e quindi che permetta a tutti i partecipanti di informarsi ed esprimere il proprio punto di vista. Desidero prima di tutto ringraziare i partecipanti, un grazie particolare a queste cittadine, mamme e insegnanti di bronzolo che hanno sentito le esigenze di organizzare questo momento. A me ci troviamo in questa modalità a causa appunto di questo nuovo decreto e ammetto che la volontà sarebbe stata nettamente un'altra, cioè quella di trovarsi e stare insieme. Quello che però non è stato possibile. attivata la seguente modalità che come potete vedere abbiamo anche fatica a tenerla, però che non sono degli esperti stiamo cercando di fare fare questo momento. Vorrei proprio introdurre il fatto proprio della volontà di questo momento di confronto. Questa serata è stata voluta perché da febbraio si sta vivendo un periodo molto delicato, di estrema confusione, di incertezza, vi sono molti dubbi, paure, le persone non hanno conoscenze medico-scientifiche specifiche, si parla di restrizioni, di responsabilità e insomma eccoci qui in questo momento. A livello organizzativo desidero indicarvi che verrà in questo momento e questa serata riportato due numeri di telefono alle quali le persone possono inviare le domande che verranno fatte poi a termine delle presentazioni e quindi ogni tanto le vedrete comparire in sovraimpressione. Abbiamo il piacere di avere qui con noi questa sera il dottor Roberto Capelletti, la dottoressa Elisabeth De Lago, la dottoressa Veronica Della Sega e l'avvocato Fabio Biasi, garante dei minori di Trento. Prima di dare inizio però alla nostra serata abbiamo anche il piacere di avere con noi la sindaca di Bronzolo, Giorga Mongillo, alla quale volgiamo il nostro saluto e magari incomincerei proprio da un saluto della casa mi verrebbe da dire e quindi chiederei proprio a lei anche il ruolo della sindaca in questo momento storico, penso che abbia il suo perché. Quindi buonasera e proviamo a vedere se intanto riesce a sentire e riesce a collegarsi. Buonasera a tutti, io vi vedo, sento, quindi spero che lasciate anche bene. Allora innanzitutto da parte mia un saluto a tutti i relatori, saluto anche tutte le persone che in questo momento si stanno collegando, sono collegate. Anzi saluto questo gruppo di mamme, donne, cittadine e per questo tipo di iniziativa le ringrazio perché credo sia veramente importante in questa fase poter un attimo prendersi anche il tempo per guardare anche con uno sguardo forse un po' diverso da quello che è il solito, quello che si sente un po' dappertutto un po' questo valorismo, queste paure che sono giustificate, ma mi piacerebbe proprio che in questa serata si potesse un attimo abbassare anche un po' l'ansia e dare uno sguardo anche diverso alla situazione che stiamo vivendo. Potremmo anche un po' imparare qualcosa anche per il futuro sicuramente. Il ruolo mio non è semplice in questa fase di gestione di questa pandemia perché è un ruolo che richiede molta responsabilità e quindi le scelte non sono sempre facili ma si sentono tanti pareri, tante cose e alla fine quello che deve fare un sindaco poi è scegliere la cosa migliore per il vero e comune che vada bene a tutti e questo a volte è forse la scelta più difficile, quindi capire bene di fare la cosa che vada bene per la maggior parte delle persone e per tutte le persone. Quindi grazie veramente per questo momento di riflessione di questa serata, io spero veramente di poter trovare anche spunti di riflessione per quello che poi dovrò gestire anche nel futuro per la mia comunità. Buonasera, grazie. Grazie mille. Io allora partirei proprio adesso ad introdurre il primo relatore che è il dottor Roberto Caprelletti, laureato medicina e chirurgia a Verona con una specializzazione in ortopedia e chirurgia generale, esperienza pluriannale anche lavorativa in Africa, ha lavorato come chirurgo negli ospedali di Mezzolomardo e Borgo Balsugana ed è il presidente della sezione provinciale di Trento dei medici per l'ambiente. Buonasera dottor Caprelletti, io passerei la parola a lei per partire proprio con questo intervento improduttivo. D'accordo, grazie per la presentazione, grazie dell'invito anche a questa serata e grazie alla sindaca per la sua presenza. Io cercherò di essere il più chiaro possibile, eventualmente ci sarà svegliato il dibattito per domande e farò una relazione spero di più assettica possibile, cercando di essere il più obiettivo possibile su quello che è successo, però la mia formazione, diciamo, avendo avuto esperienze in Africa, avendo conosciuto il continente delle malattie infettive, sapendo anche la dimensione del problema globale di certi problemi, non potrò non essere un po' di parte, ma in ogni caso cercherò di limitarmi il più possibile alle evidenze scientifiche. Allora, la prima diapositiva, non so se la vedete, riguarda la cosiddetta transizione epidemica. Nel corso del secolo scorso c'è stata una transizione fra quelle che sono le malattie infettive che si vedono nella diapositiva alla vostra sinistra e quelle che sono state le malattie cronico-degenerative. Io non avrei mai pensato, perché vi faccio vedere questa diapositiva? Perché non avrei mai pensato di tornare ancora, di veder tornare delle malattie infettive che penso che abbiamo debellato con prima di tutto l'igiene, poi la nutrizione, il miglioramento delle condizioni economiche e poi in parte con la vaccinazione. ecco che vediamo di fiorire di tutta una serie di patologie croniche che sono il vero problema, per dare un ordine di grandezza al problema, in un anno in Italia muoiono 180 mila persone di cancro, ad oggi i morti per covid sono 37 mila, insomma l'ordine di grandezza insomma è un po' diverso, ma speriamo che si fermi anche lì, quel 37 mila è anche troppo così. La seconda diapositiva vi fa vedere come appunto il declino di malattie come la tubercolosi è venuto ben prima dell'inizio della vaccinazione, per quanto la vaccinazione della tubercolosi non sia un presidio importante, ma prima soprattutto della chemioterapia, della terapia antibiotica, il declino è venuto molto prima proprio grazie al miglioramento delle malattie, dell'igiene e della nutrizione soprattutto. Ecco, adesso bisogna capire un pochettino se le nostre condizioni di vita sono scadute da qualche decennio in qua da far risorgere le malattie infettive, certe malattie infettive, ma questo sarà spazio probabilmente per la discussione. Ecco, adesso io vi farò un breve resoconto di quella che è stata la storia praticamente dal dicembre dell'anno scorso ad oggi. Allora, la storia del covid comincia per noi il 31 dicembre del 2019, quando c'è una segnalazione di casi di polmonite atipiche a Wuhan, viene fatta una segnalazione all'ufficio dell'OMS cinese. Il 7 gennaio c'è l'annuncio da parte delle autorità cinesi che un nuovo coronavirus è l'agente causale di queste polmonite atipiche e viene nominato 2019 N-CoV, che sta per nuovo coronavirus. Il 10 gennaio viene pubblicata nel sito della banca dati online, la GenBank, viene pubblicato il genoma del virus, pur senza una vera e propria pubblicazione per il momento, la pubblicazione sarà successiva. Ecco, sulla base di questa diciamo pubblicazione del genoma, quindi artificialmente, Drosten, il gruppo di Christian Drosten, del Sherite Hospital di Berlino, ha fatto il famoso test PCR del tampone, il famoso test del tampone che noi conosciamo come test del tampone, ma in realtà tecnicamente si chiama RT-PCR, cioè retrotranscriptasi polimerasi chain reaction, questo è l'estensivo per RT-PCR. Allora, cosa ha fatto Drosten? Drosten ha preso dei... ecco, questo è il genoma, non so se lo vedete, è il genoma del virus che si compone appunto di una Open Reading Frame 1A, un Open Reading Frame 1B, e una parte S che si chiama S, proteine di superficie, e per envelope, M per membrane e N per nucleotide. Ecco, Drosten non ha fatto altro che prendere quello che si sapeva già dal SARS-CoV, cioè la SARS-CoV-1, praticamente quella dell'epidemia del 2000 a terra, ha preso lo virus, ha copiato un po' quelli che erano i test della SARS-CoV-1, ha preso gli stessi frammenti del SARS-CoV-2 e ha fatto il test. E l'ha fatto nel giro veramente di tempi brevissimi, perché l'articolo viene... l'articolo che vedete viene praticamente mandato il 21 gennaio e accettato il 22 gennaio, quindi nel giro dalla pubblicazione del genoma del virus, passano appena 11-12 giorni. Drosten è riuscito a fare tutto questo lavoro. Queste sono, diciamo, le sonde molecolari, che sono composte a circa 20 basi adottate, che vengono usate per andare a scovare l'RNA del virus, che in totale è composto da 29.000 nucleotidi circa. Ecco, successivamente, il 20 febbraio, vengono pubblicate le modalità con le quali è stato isolato questo virus dal gruppo cinese, e il gruppo cinese semplicemente ha preso le secrezioni del paziente, l'ha messa in coltura, ha preso il sopranatante della coltura e da lì ha tirato fuori, con dei sistemi di sequenziazione, ha tirato fuori le sequenze virali. Qui si vede, alla sinistra si vede una polmonite franca, difficile vederle così, diciamo, estensive, di solito qualche volta si vedono difficilmente ai raggi X, si vedono più, vogliono vedere meglio all'attacca. Invece sulla destra vedete dove c'è scritto MOC, e questo è la prova, diciamo, il controllo, mentre alla destra del tutto vedete un'area circolare, con un'area di lisi, insomma, dove è stato messo il virus in una coltura di cellule epiteliali, e questo, diciamo, è un po' la prova che è stata fatta per stabilire che questo virus aveva un effetto citopatico e che poteva essere la causa della malattia. Ecco, dopo altre immagini sono state pubblicate da questo lavoro, ecco un'immagine del virus sulla sinistra, con la famosa corona, e poi alla destra, dove ci sono le frecce, si vedono le inclusioni cellulari dei virus che assomigliano, appunto, ad altri coronavirus, qui sono esperti che dicono ma sono proprio assomigliato al coronavirus, devono essere per forti i coronavirus, dopo l'analisi genetica ha dimostrato che lo erano, insomma. Ecco, da dove è partito questo coronavirus? Questo coronavirus non si sa, veramente da, ancora, da dove si è partito, perché qualcuno dice al pipistrello, qualcuno dice, sì, appunto, che c'è stato un salto di specie nel mercato degli animali di Wuhan, il cosiddetto mercato umido, wet market. Però ci sono molti che dubitano di queste cose, anche perché molti pazienti non hanno avuto nessun contatto con questo mercato, e poi il virus circolava già, si è visto anche nelle pugnature di Milano, già nel novembre, quindi probabilmente questo virus ha un altro percorso, ha un'altra origine. Non stiamo a dire, insomma, il primo colpevole appariva il laboratorio di Wuhan, è un laboratorio di biosicurezza 4 che c'è a Wuhan, dove facevano proprio ricerche sul coronavirus. Ecco, il primo, diciamo, colpevole, il primo sospetto, ecco, non colpevole, il primo sospetto è ricaduto su questo laboratorio che si è scappato un virus dal laboratorio, però non c'è stata nessuna conferma, e a stato attuale non si può dire assolutamente niente, quindi è inutile andare a cercare l'origine, se un serpente entra in casa, ci dicono gli africani, è inutile sapere da dove arriva, cerchiamo di cacciarlo fuori, di venire a capo. Ecco che successivamente vengono ovviamente pubblicati molto lavori, lì i cinesi l'hanno fatto, diciamo, da padroni. Ecco questo qua, uno studio, dove si vedono, per esempio, i cinesi chiamano asintomatici questi pazienti, ma in realtà questi 24 pazienti, in realtà, molti di loro hanno sviluppato in seguito dei sintomi, quindi in realtà erano dei pre-sintomatici, anche qui c'è un po' di confusione in letteratura sul termine asintomatico, qualcuno l'ha usato come pre-sintomatico, per dire pre-sintomatico, cioè uno che sta sviluppando, sta incubando il virus e successivamente svilupperà i sintomi. Ecco, vediamo da questo, questi qui hanno tracciato la trasmissione di un caso, no? Il caso 13 ha, probabilmente loro dicono, infettato il parente 1, il parente 2, il parente 3. Provate a guardare il parente 2, relative 2, e provate a guardare, ecco, quei triangolini che ci sono, per esempio, nel giorno 2, 4, eccetera, ci sono dei triangolini pieni, dei triangolini vuoti, il triangolino pieno è il test positivo, il triangolino vuoto è il test negativo. Abbiamo visto questo paziente, per esempio, il giorno 2 è positivo, il giorno 4 è positivo, il giorno 5 è negativo, il giorno 6 è positivo, il giorno 7 è negativo, il giorno 8 è positivo, il giorno 10 è negativo, e così via. Vedete l'alternanza del positivo e negativo? Questo ci fa dire che il test potrebbe avere dei problemi di falsi positivi e falsi negativi, in questo caso probabilmente sono falsi negativi, nel senso che probabilmente il tampone non riesce a, così almeno pensavano inizialmente, a avere sufficienti virus, altrimenti non si spiega questa alternanza, tanto più che all'inizio la best practice diceva che i tamponi da fare dovrebbero essere tre, proprio per questi problemi qua, dovrebbero essere tre prima di stabilire se uno è positivo o no, veramente positivo, in realtà per risparmio, per questioni di ottimizzazione delle risorse dice il Ministero, se ne fa uno solo, così rischiando purtroppo di avere anche dei molti falsi e positivi. Ecco un successivo lavoro, se guardate la linea, la prima linea, quella in alto, dove c'è il sito positivo e test result, si vede come la percentuale, questi qua hanno preso dei malati di polmonite, quindi che avevano sicuramente la malattia e quindi dovevano avere per forza il virus, ecco, solo nel lavaggio bronco alveolare si trovano positivi il 93% dei casi, ci sono un 6% negativi però, pur in presenza di una malattia, perfino lo scuto ha abbastanza descreato, cioè abbastanza buon risultato, sono stati 2%, ma poi se guardiamo i tamponi nasali hanno solo il 63% di possibilità di prendere il virus, cioè ci sono ben 37% di falsi negativi e così, così anche il tampone faringeo, 32% di falsi negativi, di possibilità di beccarlo il virus, e così dopo le feci, stranamente nel sangue non si trova, cioè solo l'1% dei campioni ha dato esito al virus nel sangue, e perché non si trovi nel sangue? Anche questo è un po' un mistero, almeno per me sicuramente. Da subito i cinesi soprattutto hanno, si sono resi conto che effettivamente poteva esserci un grosso problema di falsi positivi, infatti questo studio conclude che nei contatti stretti di patienti con Covid-19 circa la metà o anche più dei cosiddetti asintomatici, riportati in base al tester del tampone, potrebbero essere falsi positivi. Successivamente, cosa succede? Succede che il 21 febbraio abbiamo il primo caso italiano, uno AVO e Euganeo e uno a Codogno, i primi casi. AVO e Euganeo sarà fatto dal gruppo di Andrea Crisanti uno studio molto estensivo su tutta la popolazione, con più di 3.000 tamponi ripetuti due volte, nei quali si vedrà che il 2,6% della popolazione sarà positiva. Di questi, dice Crisanti, l'1,2%, cioè il 42% del tutto il campione positivo, sono asintomatici. Su questo Crisanti bastisce una teoria che gli asintomatici sono il vero problema di questa epidemia, però in realtà, come abbiamo visto, molti di questi potrebbero essere falsi positivi. Più avanti magari vi spiegherò anche il perché. Proprio l'1% dei tamponi oggi si ammette che potrebbe dare dei falsi positivi. Se guardate, l'1,2% dei positivi che trova Crisanti, molti di questi potrebbero essere perlomeno falsi positivi. Ecco che quello che interessa a noi sulla scuola, eccetera. Se la trasmissione avviene per via aerea e avviene per l'80% per contatto diretto e soprattutto negli ambiti familiari, ecco che però una piccola parte, un 15-20%, potrebbe essere dovuta a un contatto in diretto attraverso oggetti. Ed ecco questo studio tedesco che fa un po' il riassunto su quelle che sono le possibili trasmissioni attraverso gli oggetti di vari coronavirus e di vari virus. Trovando per esempio che però, qui parla del coronavirus del SARS-1, avrebbe una persistenza in alcuni casi, la tabella è un po' complicata e complessa, è un bello risparmio, ma seguitemi, avrebbe in alcuni casi, su superfici metalliche anche un tempo di permanenza fino a 9 giorni, meno fare sull'alluminio e sulla plastica. Ecco invece come disinfettanti, quali sono i disinfettanti che vanno per la maggiore, quelli che vengono consigliati? Sono l'etanolo, l'alcol, basta l'alcol anche al 70-71% e oltre per disattivare un coronavirus umano nel giro di un minuto insomma, oppure l'ipoclorito di sodio, dicessi barichina, addirittura la concentrazione dello 0,1% è sufficiente per disattivare il virus e cosa si fa? Si prende per esempio la varechina di casa che di solito ha l'ipoclorito di sodio allo 0,5%, si fa una parte di l'ipoclorito di sodio e 49% di acqua e si ha la concentrazione di 0,1%. Allora quello che ha fatto paura di questa epidemia cosa sono? Sono i morti, la quantità anche piuttosto notevole di morti, se guardate quel numero in basso a destra, casi totali, in basso a destra avete il tasso di letalità che fino al 30 giugno, con 240.000 positivi e 33.000 morti circa, risultava essere del 14% che è un'enormità, vedremo dopo le altre epidemie nella storia, hanno avuto un tasso di letalità inferiore, però però, 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 però dopo vi incorporo, intanto vi faccio vedere i dati, questa è anche un po' complessa la tabella, però ci sono dentro le città di Bergamo, di Brescia, che sono città che sono state molto più colpite e ci sta dentro anche Boldano, per fare un paragone. Guardate, dovete guardare i decessi totali, cioè la prima, seconda, terza, quarta, la quinta e la sesta riga, i decessi totali, cioè quelli che sono state le cause totali di morte, no? E vedere quanto si discosta durante il periodo Covid dalla linea di base, insomma, che nel caso, per esempio, di Bergamo è, nel caso, per esempio, di Bergamo è, la linea di base è di 1180 morti, no? Durante il periodo, durante il periodo 20 febbraio, 31 marzo, normalmente, no? Negli anni 2005-2019, invece, nel periodo di quest'anno, nello stesso periodo di quest'anno, i morti sono 6.000, cioè si parla di quasi sei volte tanto, insomma, è abbastanza tanto, è molto, cioè a Bergamo c'è stato effettivamente qualcosa. A Brescia, poi, è un po' lo stesso, si parla di quattro volte circa il numero di morti usuali, col danno va molto medio, insomma, se no, 667, sì, c'è un aumento, quasi un raddoppio, insomma, per cui, vuol dire, c'è stato qualcosa, cioè, l'epidemia non si può negare, cioè, vuol dire, le polmonite ci sono state. Vediamo un po' qual è il problema, però. Allora, il tasso di letalità, fino al 30 giugno, è stato del 14%, abbiamo detto, se si calcolano nei positivi, però. Dal primo luglio, adesso, al 27 ottobre, il tasso di letalità, però, è sceso dell'1,2%, perché ci sono tantissimi positivi, però pochi, pochi morti, per fortuna, qualche malato, adesso stanno un po' riempendo i posti letto in ospedale, però ancora la sanità sta tenendo, insomma, però è più la paura che possa andare avanti all'infinito, effettivamente c'è il timore, c'è un po' di timore, però, insomma, fino adesso, diciamo, le cose non vanno male, direi, il virus non è più quello di, non sembra essere più quello di marco. Cosa è successo, allora? È successo che, e questo è la, quello che succede per tutta Europa, c'è stato una, la linea nera, un aumento delle morti, appunto, da, da marco ad aprile, maggio, e, che poi è scesa, e adesso sta salendo, ma molto lentamente, invece adesso c'è stata una, come si dicono, una, un'epidemia di tamponi, una pandemia di, di test, e per cui ci sono stati tanti positivi, ci sono stati, fatti molti test, con un riscontro di positivi, ma la maggior parte di questi, fortunatamente, sono asintomatici, o hanno forme, forme dievi ancora, almeno, fino adesso si può dire così, ma, eh, noi tutti speriamo che questa ripresa della, della, dell'epidemia sia, si sia autolimitante a un certo punto, e se si ritorna, insomma, la normalità. Certo che fare i tamponi non aiuta. Allora, infection fatality rate, cioè il, il tasso di letalità, globalmente considerato nel mondo, questo è uno studio di Ioannidis, della, della, della Stanford University, dice che il tasso di letalità a livello mondiale e varia tra lo 0,09%, lo 0,2%, se si considerano che cosa, però, non i positivi, ma i sieropositivi, che sono circa il 10% della popolazione mondiale. Al di sotto della, 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 di 70 anni, il tasso di letalità è dello 0,05%, cioè adesso siamo alla mortalità di una influenza stagionale. E, allora, è tutto chiaro, è tutto, vuol dire, nella scienza è tutto tranquillo, le, 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 le diatribe sono solo all'interno dei governi, o, fra, 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 fra negazionisti, extremisti di destra, e, e, politiche governative, o c'è anche qualcos'altro che va avanti? No. Anche nella scienza c'è molta maretta, ci sono molti, molti, molte discussioni, tanto è vero che ho dovuto, eh, voglio dire, l'editoriale del, 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 del 3 ottobre, intitolato, sa la scienza in una rottura di fiducia, e proprio questa rottura di fiducia nella scienza dice, dovuta al fatto che ci sono molte opinioni fra gli scienziati, ma è giusto che sia così, ma ci sono una, una grossa fetta di scienziati che criticano le posizioni governative, sulla destra avete Wallace e Vitti, i due esperti inglesi. Prego che ci sono 32 accademici che hanno scritto una lettera a Boris Johnson, dicendo di stare molto attento al, a fare un secondo lockdown, perché il primo lockdown non è, non è esente, il suo stesso da, da inconvenienti, da grossi problemi, eh, sia sul punto, dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista economico, e poi, che poi potrebbero incidere anche sulla salute, perché sappiamo che l'economia, la povertà incide sempre sulla salute, e potrebbe proprio colpire le popolazioni più deboli, no? E, ma dice, ma, eh, però bisogna stare attenti anche a non fare delle, a prendere delle misure che non siano fondate nella scienza, no? Questi, questi richiamano il governo, dice, cioè, le misure devono essere fondate e certe, insomma, nell'outcome, non devono essere delle misure così improvvisate o solo perché sembra che tenendo la gente a casa lavaga meglio, insomma, bisogna che le misure abbiano un fondamento anche scientifico, ci siano, c'è un chiaro obiettivo, insomma, per quale si fanno tutte queste misure. L'obiettivo in primavera era quello di rallentare la curva epidemica, dando modo agli ospedali di accettare i malati e di poter curare i malati. Adesso, però, non si capisce qual è l'obiettivo di questi lockdown, perché per adesso la sanità sta tenendo e non si vedono all'orizzonte delle grosse, dei grossi ritorni di fiamme. Altra, diciamo, diatriba, cioè, Crisanti ci dice che bisogna fare i test a tutti, bisogna fare più test, eccetera, però questi, questo è il professor Ennegan e Tom Jefferson dell'Università di Oxford, della medicina basata sull'evidente, test, dicono che invece fare più test di massa potrebbe essere la cura più producente. Il problema non è che fare i test, ci dice sì quanto si è, ci può dire quando si è infetti, a parte qualche falso positivo che può esserci, ma non ci dice se la persona è infettiva, cioè non ci c'è la quantità del virus, e questo è un grosso handicap dei test, dei tamponi. E poi ci sono altri problemi, adesso sarebbe troppo lungo che raccontarvi, nel senso che anche ci sono stati fatti dei tamponi, sui 19 positivi che hanno trovato quest'estate, ebbene quasi tutti erano al secondo test, erano risultati negativi, erano probabilmente dei falsi positivi. Se a un certo punto il numero di cicli nel processo è troppo altro, si rischia di avere un contrario contatto. Ci dice il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, ci dice che... ci dice che... ho dei ritorni, mi sentite? La sentiamo bene, la sentiamo bene. Perfetto, allora questo rapporto anche di Stato Superiore, dice uno dei problemi dei test, per esempio se noi il test non va solo di fatto la performance del test, io dico questo test ha solo un 1% di falsi positivi e ha, metti, non so, il 20-30% di falsi negativi. No, non è questo solo la performance del test da vista, bisogna vedere anche la probabilità a priori di quante persone sono positive nella situazione, perché se questo è un numero bassissimo, quell'1% mi diventa un'enormità. Ed ecco che per esempio, se con un test anche di alta performance come è la PCR, abbiamo un 2% di probabilità di avere un infetto, insomma, nella popolazione, ecco che con un solo 2%, qui mette un 98% di specificità, vuol dire che c'è il 2% di falsi positivi, abbiamo un TIV, un valore predittivo di avere quella persona positiva solo di 49%, cioè meno del 50%, e non vado avanti con le altre percentuali perché sono troppo alte e adesso non sono pertinenti con la situazione di adesso, adesso abbiamo addirittura probabilità pre-test di 0,1-0,2%, per cui la probabilità di avere un falso positivo è molto alta. Questi sono i test in uso in Italia, ecco, nei bugiardini di alcuni di questi test, quelli che vengono congiunti anche a lettero, troviamo questa scritta, chiamiamo bugiardini, chiamiamolo foglietti illustrativi, ve lo traduco in italiano. I risultati positivi sono indicativi, sono indicativi, non sono la prova, della presenza del SARS-CoV-2, dell'RNA del SARS-CoV-2. La correlazione è necessaria però, una correlazione clinica con la storia del paziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo del paziente. Un risultato positivo non può escludere altre infezioni batteriche o una coinfezione con altri virus. Quindi l'agente trovato può non essere la definitiva causa della malattia. In tutti i fogli illustrativi l'FDL impone di mettere questa cosa qua, perché dice che prima di tutto non c'è nessun test che al 100% specifico è sensibile, prima cosa. Seconda cosa, i test vanno sempre visti, i risultati di test vanno sempre visti alla luce della clinica, questo ce l'hanno sempre insegnato a scuola di medicina. Altra dietriba nel mondo scientifico, l'immunità di gregge. C'è questa immunità di gregge? Non c'è. È giusto raggiungere l'immunità di gregge? Non è giusto. Allora, per il SARS-CoV-2 pare che l'immunità di gregge si raggiunga con il 60% degli individui, quando il 60% degli individui sono immuni, perché c'è un tempo, un R0, un indice di riproduttività da 2 a 3, quindi da 50 a 60%. Ecco, anche qui ci sono delle diatribe, perché uno dice, ma scusate, abbiamo trovato sì o no il 10% della popolazione al massimo che abbia gli anticorpi, quindi prima di raggiungere il 60% non possiamo aspettare che la popolazione, bisogna fare qualcos'altro, insomma non si può aspettare che la popolazione raggiunga l'immunità di gregge. Però dall'altro canto, è vero che gli anticorpi sono importanti, però nella difesa virale la cosa più importante sono la difesa cellulare, cioè le cellule T, soprattutto i CD4, che sono i veri, diciamo, spartini dei virus e qualche volta si è trovato, si è trovato delle persone con appunto delle cellule T linfocitarie attivate, quindi in grado di rispondere molto rapidamente, anche in assenza di anticorpi. Anzi, ci pare che il 50% delle persone, anche semplicemente esposte a un comune raffredore, possa avere un'immunità crociata con il virus del SARS-CoV-2, quindi si arriva a più del 50%, quindi praticamente ci saremmo quasi, insomma. Qui c'è un po' di controversie, usare il test per il virus respiratore come strumento di diagnosi universale, mai fatto prima. Mascheratura universale, sì, si è fatto qualche volta con il SARS-CoV-1, con la SARS-1, ma solamente limitato a alcuni paesi asiatici, insomma, ma mai qua da noi. Confinare i sani, mai fatto prima nella medicina moderna, monopolizzare le strutture sanitarie per un'unica causa, mai avvenuto prima. Considerare gli asintomatici malati, mai fatto prima, considerare chiunque vettore, sì, ci è fatto prima qualche volta, ma molto raramente, non su vasta scala, così di certo. Ecco, per concludere, vorrei farvi vedere quello che è la storia della medicina, perché la storia della medicina ci aiuta a capire quello che è successo. Le epidemie del passato ci possono aiutare, anche per capire, ci sarà la seconda ondata o non ci sarà la seconda ondata, no? E allora, per rispondere a questa domanda qua, andiamo a vedere cosa è successo nel passato. Allora, le prime epidemie di cui abbiamo memoria è l'epidemia del 1848-49, ma lì ci sono pochi dati. Andiamo invece alla successiva, quella del 1889-90. ecco, c'è stato una, diciamo, in queste epidemie, come nella successiva, nella spagnola, dal 20 al 60% delle persone venivano infettate. Noi adesso, se è vero che i dati della siroprevalenza siamo al, in Italia siamo al 4%, al massimo 6%, e quindi non si capisce perché il virus tenga un così basso profilo, se è un virus così infettante, eccetera. Questo è il primo dato un po' anomalo. L'altro dato nuovo, vedete, il tasso di letalità va dal 0,10 al 0,20% per la pandemia del 1889-90, va sul 2-3% per la pandemia del 1918. Però, quello che si vede in queste pandemie è che non c'è stato quasi mai, ad eccezione della spagnola del 1918, non c'è stato quasi mai una, diciamo, un'ondata di ritorno. Si è svolta solo in un inverno, praticamente. Cosa è successo nel 1918 con la spagnola? Nel 1918 è successa una situazione un po' particolare. L'epidemia parte da Camp Funston, nel Camp Relay, nel Kansas, dove si addestravano le reclute che devono partire per il pronte. Qui venivano, queste reclute venivano vaccinate abbastanza pesantemente con antititica e poi è stata introdotta anche un vaccino sperimentale contro il meningococco. Eccolo qua, qui c'è il rapporto di questo vaccino che era stato fatto proprio in gennaio, no? Che hanno cominciato in gennaio la vaccinazione. L'autore di questo lavoro, vedete, Frederick Gates, non è imparentato con Bill Gates, ovviamente, ma è il figlio di quel Frederick Taylor Gates, che è il direttore della Rockefeller Foundation, che da qui in poi si occuperà molto di questioni mediche e soprattutto interesserà molto sulle vaccinazioni. Cosa succede? Succede che questi militari, allora il primo caso, il primo morto è nel marzo, è un certo Albert Gicchel, cuoco della compagnia, nel 4 marzo del 1918, si amala e muore. Da qui, dall'epidemia, dal Kansas e dal centro di allestamento, si porterà però al pristore fronte ed ecco che questa è per esempio la curva di Londra. Perché si dice la seconda ondata è stata peggiore, ma la prima è praticamente, non c'è stato, c'è stata da tantissimo, perché stati militari che sono arrivati nei porti europei, lì hanno lasciato qualcosa, c'è stata una piccolissima epidemia, ma la vera epidemia è stata dell'inverno e primavera del 18-19. Quindi questa è stata la vera epidemia. E si vede, anzi la mortalità, che si vede, naturalmente si prende le persone fra i 20 e i 45 anni, di più che non gli anziani. Vediamo le curve di New York, la curva di New York copia un pochettino quella di Bergamo, perché arriva da un 10%, se si parte da un 10 per mille di mortalità, che è la mortalità di base, anche noi circa la mortalità da noi è l'1% la mortalità generale, no? E si arriva, e qua si arriva fino a sei volte tanto, quindi a New York. Ci sono delle città che sono arrivate fino a cento volte tanto, quindi ecco. Però si vede questo andamento bifasico, no? In alcune città l'andamento bifasico, cioè una seconda ondata verso gennaio-marto, no? C'è una seconda ondata, ma sempre nell'inverno diciamo 2018-2019, il processo dove c'è stata tutte le città, ci sono i dati per tutte le città, non ve le risparmio. Ecco che quello che c'è da dire anche sotto questo aspetto, no? In queste epidemie cosa si faceva? Si vaccinava. E con cosa si vaccinava? Ancora non si conosceva la causa, eppure si vaccinava contro una serie di batteri, perché si erano visti che la gente, si era visto che la gente moriva di infezioni opportuniste, no? Allora si vaccinava contro una serie di batteri dal pneumococco, si era discusso per anni sull'emophilus influente come agente dell'influenza, eccetera, il cosiddetto bacillo di Pfeiffer, eccetera. Però questi continuavano a proporre le vaccinazioni ed erano su larga scala, sono state fatte queste vaccinazioni in questi batteri, finché a un certo punto, grazie a Giorno McCoy, che era del Dipartimento di Sanità Pubblica, a un certo punto lui metterà i paletti per dire quali i vaccini sono, per mettere, per definire quali sono gli studi da fare per dire se un vaccino è efficace o non è efficace. Infatti questi vaccini verranno tutti cassati perché nessuno di questi vaccini funzionerà. Ecco come ultimo messaggio direi sì, va bene. Io personalmente avendo studiato medicina e essendo stato in Africa, avendo vissuto contatto con tubercolotici, avendo fatte di nonni, avendo l'epatite anche, io non ho paura di morire di una malattia infettiva, ho più paura delle malattie croniche degenerative, dei tumori. Per cui direi bisogna essere prudenti perché non si sa da qui in avanti come andrà a finire, quanto resterà questo virus per noi. Io sono ottimista, però non bisogna fare in modo che la paura prenda il sopravento e che manovre e misure irrazionali causino più danni che altro. Noi sappiamo da Tucidite che Atene è praticamente stata sconfitta non dalla peste, ma dalla paura della peste, è questo che diceva Tucidite. Quindi dobbiamo avere più paura della paura stessa non tanto di queste cose. Queste cose vanno affrontate razionalmente e vanno con i comportamenti logici. Io mi concludo qua e aspetto, se ci sono delle domande, sono a disposizione. La ringrazio dell'intervento e concludiamo appunto con la prudenza e l'ottimismo che portiamo con noi. Passiamo adesso al secondo intervento che invece vede la dottoressa Elisabeth Delago. Buonasera. La dottoressa è una pediatra di Ortisei e durante questi mesi anche lei ha avuto la possibilità di visitare molti pazienti, Covid-19, sia in Val Gardena. È responsabile appunto delle visite domiciliari dei pazienti a Bressanone presso l'unità speciale di comunità assistenziale. Lei questa sera ci introdurrà un po' anche la tematica inerente ai bambini, ai ragazzi, alla scuola in questo momento della pandemia. Se lei mi sente, dottoressa, può intervenire nella sua madrelingua, se la dottoressa farà il suo intervento in lingua tedesca, poi tutti i concetti verranno poi riassuti anche in lingua italiana. Intanto mi dicono che deve anche condividere il nostro intervento, se questo è possibile, con la presentazione. la ringrazio. E penso che abbia il microfono qui. No, no, no. Mattei guardo foreignersahu. No, no durantemas... No. No, no. No, no. No, no. No. vediamo di risolvere questo piccolo problema tecnico provi adesso a condividere lo schermo gentilmente funziona? allora intanto la sentiamo sì, perfetto buonasera dottoressa sì buonasera a tutti adesso io farò la relazione per tedesco per fare lingue e vi faccio ogni tanto un piccolo riassunto di quello che vediamo io parlerò sui bambini e giovani e la scuola guten abend an alle jetzt meine erste grafik da sehen wir wo die infektionen herkommen und wenn wir ganz rechts anschauen die rechte untere kleine ganz das kleine rote das ist eigentlich die infektione über schule über kindergarten ho und im verhältnis zu den ganzen anderen infektionsherden wie in der familie in im altas pflegeheim flüchtlingsheim e wohnheim ist es ne ganz geringe geringe percentuale vediamo qua che i contagi avvengono proprio con quella piccola riga un po' rossa proprio e si vede che a scuola vengono proprio una percentuale bassissima di 5% anche adesso in den giornali in den zeitungen sieht man 5 kinder infiziert 5 schulen schliessen aber wenn man wenn man das mit 200 positiven tests vergleicht dann sind das genau die 4-5% die man weiß jetzt ich werde kurz auf auf einige kritische punkte eingehen die nicht ganz klar sind das erste ist sicher die masken die die große frage ist schützen die masken schaden die masken in italien in der schule haben wir eine maskenpflicht bei kindern um über 6 jahren wenn sie die distanz von einem meter nicht einhalten können und sogar während der pause und bei sport wobei wir sagen müssen die besonderheit der atmung bei kindern die atmen 2-3 mal häufiger und das atmvolumen ist viel geringer la nostra domanda è della mascherina è una protezione quanto protegge o fa anche dei danni e la respirazione dei bambini è proprio un po' differente che è molto più veloce di 2-3 volte di quella degli adulti e il volume anche molto meno riduzierti del giappone ci dice una mascherina di stoffa da una diminuzione della carica virale di 17% una chirurgica di 47% un infetto di 70% e alla fin non esiste una protezione del 100% e si deve dire che qua con le mascherine di stoffa una riduzione di 17% mi sembra molto poco per far poi una proprio una indagine così come avviene proprio al giorno d'oggi sulla strana nelle scuole und das nächste die nächste frage ist schaden die masken wir haben nur eine einzige studie bisher in leipzig die eine ganz neue studie da ist daraus folgen sie die leistungsfähigkeit bei starker belastung fiel beim tragen der maske deutlich ab bei kindern haben wir nur eine einzige studie die sieben jahre alt ist und die vergleichen kinder 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 maske mit maske und einer ffb2 maske mit ventil und in ruhe bei lesen und bei gehen und die schlussfolgerung war dass die kohlendioxid co2 konzentration deutlich anstieg und abhängig immer von der maske art natürlich und von der track dauer qui si pone la domanda se può la mascherina può danneggiare esiste solo un uno studio scientifico su bambini che poi conclude che il co2 la concentrazione si aumenta si aumenta dipende dall'attività fisica e dal tempo di utilizzo a pensare che adesso a scuola lo hanno anche per ore eine studie des umwelt bundesamtes zeigt dass co2 werte von 1000 ppm und höhere praktisch die werte über 1000 folgende beschwerden führen kopfschmerzen müdigkeit schwingel konzentrations schwäche und bei asthmatischen kindern kommt es zu häufig zu einer häufung von astma anfällen und zu atemwegsinfekten e qui l'agenzia federale dell'ambiente di germania prende i valori sopra di di mille ppm dicono i sintomi ci sono sopra i mille sono mal di testa vertigine problemi di concentrazione e dai bambini asmatici che hanno più attacchi asmatici e più infezioni e qua si vede proprio anche i limiti che che qua ci concentriamo su mille e mille oltre sotto i mille a posto piuttosto ma oltre mille è proprio da preoccuparsi qui è una tutta la l'alte 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 vore l'alte l'alte Inoltre, inoltre, vediamo la CO2 con la masca di 280 e con la masca con la masca di 5.230. Das ist das 20-fache von oben, wenn wir denken, das Limit an Gesundheitsschädigen der Konzentration haben wir bei 1.000 gehabt. Und hier ist auch zu bemerken oder auffällig, dass eine chirurgische Maske das Limit viel weiter unten ist, die Werte. Die sind nur bei 3.570, Schlauchdruck auch sehr hoch, aber die selbstgemenette Maske ist eigentlich die schlimmste. Qui vediamo una ricerca dell'Agenzia dell'Ambiente con i valori della maschera con e senza movimento. E con movimento quello giù stepper e a destra a destra si vede i valori senza mascherina che sono a 280 ppm e poi con mascherina di stoffa giù in fondo 5.230. Ricordiamo che il limite proprio era di 1.000 e la mascherina chirurgica è molto meno di valori. Jetzt nochmal in der grafik man sieht ganz links die CO2-Werte, die normalen, mit und ohne Bewegung und mit selbstgemenette Maske wie hoch die sind, über 5.000. Qui si vede di nuovo quella correlazione tra CO2 senza mascherina e a destra con la mascherina che è oltre 5.000. Und hier die Schlussfolgerung der Besprechung, non le mascherine non sono tossiche, die Pressemeldung und Schlussfolgerung aus dieser Studie ist, Die erhaltenen Ergebnisse beweisen und unterstreichen, dass die Räumlichkeiten, in denen die Vorschrift herrscht, Schutzvorrichtungen zu tragen, optimale Lüftungsmöglichkeiten haben müssen. Das heißt, dass die CO2-Konzentration immer unter 1.000 liegen sollte. Qua si vede gli articoli stampa, no le mascherine non sono tossiche e la conclusione di questo tutto, di questa ricerca è che l'aria all'interno non deve avere valori oltre 1000 E qua, così si deve avere una ventilazione o ottimare la ventilazione. Questa è la conclusione. Hier un Satz von Anders Tegnell, der ist Stadsepidemiologo in Schweden, der sagt, Zu glauben, dass Masken unser Problem lösen können, ist sehr gefährlich. Pensare che le mascherine risolvono il nostro problema è molto pericoloso. Die nächste Frage ist, was nützen unsere Hygienemaßnahmen? Desinfektionsmittel enthalten 70 bis 80 Prozent Ethanol und sind extrem gesundheitsschädlich. Sie sind antibakteriell. Man hat die drei Klassen von Desinfektionsmitteln und führen sehr stark zu Hautreizungen mit Eczemen, Infektionen und gerade bei Kindern die Augenvereizungen. Wie schnell man mit den Händen in den Augen ist, sehen wir auch als Erwachsene. Die Desinfektionsmittel sind 10 bis 100 Mal stärker als Wasch mit Seife und sind überhaupt nie für Kinder geprüft worden. Desinfektionsmittel gehören wie Putzmittel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Qua con il tema igiene, quello ci porta molte volte, abbiamo visto anche in ultime settimane, problemi, irritazione di pelle e proprio gli occhi, ustioni chimici agli occhi. E questi desinfektanti sono 10 a 100 volte più potenti che il lavaggio con sapone. Come i prodotti per la pulizia, non devono mai essere a portata di mano dei bambini. Hier möchte ich Ihnen eine Studie vorstellen des Professors Henrik Streeck im April 2020 bei einem Hotspot in der Nähe von Bonn. Die Ergebnisse der Studie waren, Covid-19 hat eine Sterblichkeit von ungefähr 0,37 Prozent. Damals hatte man noch 10 Mal mehr angenommen. Es gibt 30 Prozent asymptomatische Fälle. Die Übertragung erfolgt nicht über Oberflächen und Gegenstände. Er hat dabei in infizierten Familien über 100 Proben genommen von Gegenständen, Türklinken, Toiletten und letztendlich hat es auf den Oberflächen nur drei Prozent Virusnachweis gegeben, wobei nachher es war kein infektiöser Virusnachweisbar. Das heißt, das Fazit ist, die Übertragung erfolgt nur über engen Kontakt durch Tröpfcheninfektion und Aerosole und Oberflächen, Kontamination, Übertragung können wir so gut wie vergessen. Die Forschung dieser Forschungser hat er die Übertragung überlegte Sie, proprio nelle case, nelle famiglie e la conclusione è proprio della mortalità e che i casi sono proprio 30% e oltre di asintomatici e che la superficie non si trova proprio viri attivi sulla superficie e sugli oggetti. E a pensare adesso con tutte queste desinfezioni se ha proprio una relazione giusta con quello che facciamo con tutta quella desinfezione proprio nelle scuole asilo. Der nächste Punkt, den ich diskutieren möchte, ist wirklich der Abstand. Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Es ist grundsätzlich für Zusammenarbeit, wir müssen Gruppen bilden, gemeinsame Aufmerksamkeit, Solidarität, Empathie, Konflikte lösen, erfolgt nur in Gruppen und zusammen. Un soziale distanz führt auch zur sozialen Kälte. E proprio col distanziamento qua, coi bambini è proprio un problema. La persona resta, è e resta un essere proprio sociale. E qui solo nel gruppo impariamo empatia, formare gruppi, proprio risolvere i conflitti. La distanza sociale porta poi anche a un distacco sociale. E un distacco, il distanziamento proprio coi bambini piccoli non è possibile per niente. Was macht Corona mit unseren Kindern? Uns fehlen die Sozialkontakte. Kinder lernen eben Empathie, Verzicht, Konflikte lösen. Die Kinder vereinsamen und Langeweile wird durch Zeitvertreib kompensiert. Wir haben gesehen, dass die Kinder im Schnitt in der Lockdown-Phase 6-8 Stunden am Tag die soziale Medien benutzten. Je mehr soziale Medien, desto weniger Empathie und Freunde. Hier zum Fernunterricht. Die Schule wird digitalisiert. Lernen wird schlechter. Besonders schwache Schüler brauchen die Bezugspersonen, die Lehrpersonen. Und auch die ganzen Ängste der Eltern werden auf die Kinder übertragen. Man kann Kindheit nicht auf morgen verschieben, sagt Dr. Spitzer, ein Hirnforscher. E cosa fa il Corona con i nostri bambini? Abbiamo visto che nei fasi di lockdown i bambini per 6-8 ore erano sul computer. Non erano concessi il movimento, sport, non potevano trovarsi con gli amici. Si annoiavano e trovavano un passatempo. Per quello l'insegnamento a distanza è molto problematico. È digitalizzare la scuola e per i studenti proprio deboli è proprio un gran problema che per imparare gli serve il contatto diretto. Alla fin fine non si può spostare l'infanzia a un domani. E qua si vede un... Hier sehen wir ein Foto di Schule in Thailand. Wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht so weit kommen. Full-out Hygiene Hysteria. Dottoressa, mi scusi. Volevo solo avvisare tutti che abbiamo avuto dei problemi tecnici e le slide che lei sta proponendo non si vedono. Però non abbiate paura che noi troveremo sicuramente la modalità per farle avere a tutti gli interessati. Però la cosa è che abbiamo avuto dei problemi tecnici e dalla regia mi hanno detto che nessuno riesce a vedere appunto la presentazione. Ma lei continui senza problemi? Continuiamo senza. Certo, e poi dopo la faremo avviare senza alcun problema. Queste sono, diciamo, le conquiste anche della tecnologia e dei problemi che ci possono essere. Prego, mi scusi. Sì, andiamo avanti. Letztendlich kann man sagen, Corona ist kein Sprint, sondern wirklich ein Marathon. Der Professor Streeck sagt uns, Das Coronavirus wird uns ein Leben lang begleiten. Wir müssen lernen, mit ihm zu leben. Deshalb geht es im Krisenmanagement darum, langfristige Lösungen zu finden und keine kurze Verbote. Il Coronavirus ci accompagnerà per tutta la vita. Dobbiamo imparare a condividere con lui. Dice il professore Streeck, è uno sprint, non è uno sprint, ma una maratona e la gestione della crisi si deve trovare soluzioni a lungo tempo che vanno bene per i prossimi mesi, per gli anni e proibire non è proprio il modo giusto per fare una soluzione proprio a lungo tempo. Jetzt zum Schluss noch ein Gedanke von Benediktina Norge und Wolf, eine Gesellschaft, die nur angstvoll an ihre Sicherheit denkt, läuft Gefahr, unmenschlich zu werden, ohne es zu merken. Una società che pensa solo con ansia alla sua sicurezza corre il pericolo di diventare disumana, senza notarlo. Und hier zum Schluss möchte ich kurz noch anführen, dass mein Wunsch einfach, dass wir für die Zukunft oder für die nächsten schweren Wochen einfach menschlicher im Umgang werden, menschlicher in der Medizin und man wirklich abwägen muss ob jetzt die Maßnahmen schlimmer sind oder ob der Virus wirklich schlimmer ist. Alla fin, vorrei anche dire che proprio dobbiamo condividere con questo Virus e trovare soluzioni umane e non che tutte le misure sono peggio del virus stesso. Grazie a tutti. Grazie a lei e della sua interissima intervento. Adesso passerei la parola a Giasi, avvocato appunto e garante dei minori dei diritti dei minori di Trento e mi sentite? Sì, sentiamo, sentiamo. Ecco, buonasera dottore, avvocato buonasera e lascio la parola a lei e la ringrazio per la sua presenza e ecco, se lei ha piacere di voler collegarsi anche a quello che ha detto la dottoressa volentieri e noi abbiamo avuto solo dei piccoli problemi l'ho avviso perché abbiamo avuto un momento di blackout però adesso dovremmo essere tutto a posto. io le lascio la parola e l'ascoltiamo molto volentieri. Sì, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, io vi dirò che questa sera sono venuto a casa del dottor Capelletti che recentemente mi ha invitato perché io a casa mia avevo problemi di collegamento perché stavo facendo la rete e quando stavo per entrare nella casa del dottor Capelletti avevo la mascherina pronta per mettermela addosso poi quando ho visto che mi ha aperto mi ha salutato con un sorriso aperto ho detto mi sono tranquillizzato ho messo la mascherina in tasca ho detto se lo dice un medico vuol dire che la mascherina posso anche non metterla questo per dire come il mondo del sapere dei saperi della scienza questa scienza che almeno da 300 anni ci stanno inculcando in tutti i modi che sicuramente anche come dire ha aumentato il benessere dell'umanità perché c'è un problema di igiene o per i vaccini e di altre misure ha consentito anche il debilamento di tante malattie però volevo dire quando c'è il problema del potere della scienza e del sapere noi dobbiamo inchinarci nel senso che dobbiamo dire va bene va bene così se il dottor Cappelletti mi avesse raccolto con la mascherina me la sarei messa e non avrei fatto nessuna nessuna questione nessuna e nemmeno domande ecco il potere il potere della della scienza oggi esitiamo un fenomeno nel quale il qualsiasi governo dal più alto quindi la presenza del Consiglio dei Ministri a quelli intermedi come i governatori ai sindaci delle città sono sottoposti ad una ad un chiamiamolo dictat chiamiamola regola sanitaria che è sempre stata molto pregnante che ha diciamo dettato l'adozione delle misure che sono state in grandissima parte che sono misure in grandissima parte di verticide nel senso che tolgono molti spazi di libertà e io ritengo che questi spazi di libertà non siano come dire dei capricci delle persone ma siano proprio degli spazi come dire esistenziali per le persone vuol dire andare a fare la spesa vuol dire avere un contatto sociale con gli altri vuol dire abbracciarsi vuol dire toccarsi vuol dire tenere tenere i contatti come normalmente si faceva prima di questa pandemia oggi quando vai in giro per strada la gente ti vede anche come si ha una schiena a abbassare il guardo come se il virus passasse anche attraverso lo sguardo è una cosa terribile tant'è ogni tanto mi darebbe da dire guardami in faccia guardiamoci in faccia non corriamo pericoli ecco detto questo vi dirò che per andare nel mondo della scuola l'ufficio del garante è stato interessato in più occasioni da segnalazioni di atteggiamenti all'interno delle scuole molto puntivi nei confronti dei ragazzi io ricordo un episodio molto recente in cui due tre studenti lo abbiamo sospeso per tre giorni per aver scambiato delle bottigliette di acqua ecco io non credo che questa sia la via come dire per affrontare c'è una via questa è una via di paura come diceva il dottor Cappelletti come diceva la professoressa De Lago è una via di paura che non dobbiamo dobbiamo ribellarci a questa importazione le paure lo sappiamo che spesso in psicologia sono come dire richiamano l'evento più ho paura di una cosa più questa cosa rischia di avverarsi e credo che proprio il ribellarsi contro questa cultura della paura contro questa cultura del sospetto il virus è visto come una specie di cavallo di troia che si insinua ovunque che arriva da ogni parte che ci insidia che ci limita che ci fa malare allora di fronte a questo credo che i bambini i ragazzi sono certamente i più esporti certamente anche i mondadulti io credo che siamo tutti un po' in questa barca molto dolorosa direi perché non c'è da ridere non c'è da stare alleghi soprattutto in prospettiva dei mesi che arriveranno però credo che proprio quando parliamo per esempio di bambini dobbiamo anche pensare che come dire non c'è soltanto l'aspetto sanitario quello della tutela fisica materiale della malattia noi siamo un tutt'uno non abbiamo soltanto un corpo che si può ammalare che può degradare perché si diventa anche bene ma abbiamo tutta una serie di elementi che ci distinguono sono elementi che fa parte la persona umana c'è una psiche oltre un somma no? c'è una c'è una psiche se noi continuiamo con la con la paura a dover difenderci ci difendere a spada tratta è una cosa che forse non conosciamo ancora speriamo che poi la ricerca riesca a diciamo così risolvere alcune problematiche però se non riusciamo ad uscire da questo clima di terrore perché per le scuole sono fatte fermate quasi in carcere di massima sicurezza questo non va bene non è possibile che un bambino per esempio reprima un corpo li tosse un raffreddore mi è stato riferito questo perché ha paura che se poi va in quarantena o se poi va in isolamento poi gli altri compagni non vogliono più cercare con lui questo è un terrore vero proprio queste cose dobbiamo evitarle credo che anche chi ha la responsabilità delle scuole più che diciamo occuparsi di una propria tutela come dire penale no perché c'è anche questo da dire preoccuparsi della vita degli altri della vita anche dei bambini dovrebbe sapere che ci sono delle norme nei protocolli che sono assolutamente incompatibili con le leggi naturali dell'uomo no come diceva la dottoressa Delago l'uomo è per alcuna un essere sociale non si può pretendere che i bambini stiano distanziati anche perché appena poi la scuola succede che sappiamo tutto queste norme non vengono più rispettate i bambini poi si abbracciano e si abbracciano addosso fanno la lotta e questo lo sappiamo allora possiamo anche mettere da parte un po' di ipocrisia e chiedere per esempio ai clienti scolastici di fare un po' un passo indietro perché io non lo so se queste norme sono molte probabilmente sono norme efficaci per combattere il bambino ma con queste misure con questa punitività con questo senso anche dell'omigliazione di quello che in realtà siamo e di come dire il soppocamento che in realtà siamo non vedo non vedo una delle delle uscita ingioiose vi dirò più si reprime una certa natura più questa natura poi si ribella guardate che lo stiamo vedendo le piazze in questi giorni la gente che sente in piazza poi loro dicono sì sono i fascisti l'esterno a destra sono i camorristi ma questi sono no non lo so ci saranno anche questi perché la gente è disposta a parcasino quando c'è l'occasione ce ne è sempre ce ne sarà sempre però in realtà c'è gente disperata che va nelle piazze e questi qui non sono nemici del governo nemici del governo sono persone che devono lavorare che devono come dire tirare le somme ogni mese che devono fare un bilancio che devono fare le tasse eccetera eccetera ora di fronte a questo quello che voglio dire è che non si può tirare troppo una l'applicazione di norme innaturale dobbiamo rispettare la nostra natura e rispettare la nostra natura vuol dire non vuol dire non vuol dire magari non mettere la mascherina o usare o non usare certo bisogna usare le protezioni ma per esempio l'igiene a scuola deve essere una cosa dovuta per natura se io vado in un ambiente e scusate ho fatto qualcosa se vado in un ambiente come dire mi aspetto che quest'ambiente venga curato però deve essere un atto d'amore deve essere un'imposizione io adesso non posso entrare assolutamente nel merito dei visitanti delle mascherine perché hanno già parlato persone che sono assolutamente che sanno queste cose e io invece non le so però ecco però si vedono le cose si notano per esempio sulla mascherina io magari vi lo mando un atto sulla sull'effetto che fa sui bambini il non vedere il volto del maestro che è l'idea lo giuro sul volto e oltre al distruttamento che è il distruttamento sociale importa che ci siano delle 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 ripercussioni psicologiche sul non riconoscere il volto io in un momento di questo studio è molto interessante mi leggo una cosa che viene scritta in questo studio dice i persidi di protezione indicati con i doni e le cosiddette mascherine indossate a maestra e maestra rappresenta un elemento oltremodo perturbante per i bambini in un modo di percezione di attenzionalità di espressione che rispecchiano un'emozione che il piale parla che il il bambino è il volto dell'adulto che parla per cui voce sorge dalle labbra per lui quale risonanza ridupa in termini di acquisizione del linguaggio e della sua stessa interazione con il mondo e questa è un domanda che credo che non possiamo limitarsi ad una così potilarsi in un più grande perché rischiamo veramente di ammalarsi tutti di altre malattie magari come diceva il dottor Capelletti non mi fa paura tanto di ammalarmi di una malattia infettiva quanto di ammalarmi di una malattia tonica degenerativa che fra queste non dobbiamo dimenticare anche le malattie fisiche e gli ostacoli enormi che i bambini presentano nel loro per il risultato psicofisico e del diritto che hanno il risultato psicofisico che non dobbiamo dimenticare che la Repubblica deve tutelare e promuovere il risultato psicofisico di ogni persona ecco concludo i bambini sì secondo me si stanno comportando un'unica splendida perché anzi dirò che hanno acquisito come dire questa imposizione anche lockdown eccetera con una maturità e una consapevolezza davvero incredibili ecco credo che per aiutarli dovremmo veramente per eccedere da qualche da molti atteggiamenti terrorizzanti e angoscianti perché questo veramente credo che non ho i dati ma se lo faccio da più del covid ecco io vi ringrazio molto e vabbè sono a disposizione se qualcuno vuole fare qualche domanda grazie ringrazio infinitamente l'avvocato Biasi del suo intervento procederei appunto con la dottoressa invece della sega che prima abbiamo avuto un pochino delle difficoltà di collegamento buonasera eccola presente anche lei ritorniamo sull'aspetto diciamo medico dopo l'intervento invece di un avvocato che ha portato una parte molto vicina ai genitori di bambini che frequentano diciamo le scuole e ritorniamo invece sull'aspetto medico la dottoressa Veronica della sega è medico di medicina generale con esperienza pediatrica e anche diciamo ha una specializzazione sull'agopuntura e l'omeopatia a Bressanone io se lei mi sente dottoressa le lascerei la parola volentieri la ringrazio anche lei per essere presente questa sera prego buonasera mi sentite si mi sentite come facciamo adesso mettete voi le scherze le idea positive allora abbiamo avuto prima di problemi tecnici nel momento in cui abbiamo avviato le slide quindi per non perdere diciamo di nuovo il collegamento io farei senza se fosse possibile per lei e per tutti poi al termine faremo avere poi dopo in caso il materiale a tutti gli interessati e troveremo diciamo la modalità idonea può andarle bene dottoressa anche va bene grazie ringraziare chi mi sta ancora ascoltando perché è lunga stasera e vi voglio parlare un po' del nostro microbiota che cosa è questo praticamente io parlerò sembra un po' fuori fuori termine tutto quanto il nostro microbiota è tutto quello che parlerò dell'intestino come mai che parlo oggi dell'intestino perché lui il nostro microbiota è tutta una serie di batteri virus parassiti miceti che sono presenti nel lume del nostro intestino a nostro beneficio finché sono in oibiosi cosa vuol dire finché c'è uno stato di equilibrio che si autoregola in merito a numero e anche come tipo di organismi allora noi sappiamo che c'è un'infinità di microbi nel nostro intestino ma quando avviene questo contatto noi nasciamo sterili e però nel corso di un anno guadagniamo il nostro microbiota adulto la colonizzazione avviene nel momento e dal modo del parto questo è molto importante perché abbiamo diciamo una certa una certa prevalenza di batteri buoni di una flora buona quando il parto avviene spontaneamente i bambini vengono colonizzati dalla flora vaginale che sono prevalentemente i lattobacilli dalla flora della pelle di madre e padre dalla flora buccale e dal latte materno per esempio al parto cesareo lì avviene nella colonizzazione in modo diverso perché toccando la pelle abbiamo anche a più stafilococchi un'altra flora che solo nel corso degli anni si avvicina a quello di un nascituro col parto spontaneo allora per i bambini i primi mille giorni sono fondamentali e dobbiamo proprio pensare a lasciarli crescere in un modo molto spontaneo in un modo naturale e evitiamo ogni tipo di interferenza chimica evitiamo ogni interferenza se possiamo già in utero dobbiamo anche pensare tutto quello che ci circonda i pesticidi tutto l'ambiente tutto questo si si ripercuote in un certo senso sul nostro essere intorto ma proprio anche sulla sulla nostra flora allora evitiamo evitiamo se possiamo ogni cura antibiotica che riduce il nostro microbioma riduce proprio anche la biodiversità guardiamo un po' di assumere cibi prevalentemente non trattati o biologici pensiamo anche che i pesticidi quali il linfosato sono anche in grado di comportarsi da interferente endocrini mangiamo in modo equilibrato ed assumiamo cibi fermentati quali quali sono questi cibi lo yogurt il kefir i crauti ogni giorno un pochettino e rafforziamo un po' i commensali utili della flora intestinale forniamo loro fibre e fibre solubili contenuti nella buccia delle miele dell'opsiglio semi di lino semi di chia ktopinambur cicoria rapamera che in tedesco si chiama schwarzwurzel non sono certa della traduzione giusta allora come mai questo questo nostro microbiota è uno scudo protettivo il microbiota sano ci protegge praticamente in condizioni normali quando mettiamo che abbiamo una buon microbiota da bambino non abbiamo tante interferenze e vediamo che i batteri proprio nel lume dell'intestino formano un biofilm esso è situato sopra l'epitelio e lì proprio questi batteri provocano una secrezione di muco dalle cellule mucipare e c'è anche la secrezione di immunoglobuline a la nostra difesa nel lume proprio dell'intestino però cosa succede quando questo equilibrio viene manomesso questo si chiama la dispiosi la dispiosi c'è in tutte le età lo possiamo vedere in sintomi a specifici un malessere una alistenia la cefalea l'insonnia oppure viceversa una sonnolenza diurma che non che non sarebbe naturale ma vediamo anche che la dispiosi causa una certa depressione può causare ansia tachitcardia panico addirittura fredolosità possiamo anche avere dei sintomi specifici tutti noi conosciamo nel mio studio ogni giorno lo sento mille volte il meteorismo la dispepsia l'anoressia c'è una pirosi un gonfiore epigastralgie stipsi oppure alterazione dell'alvo cosa vuol dire che noi il nostro corpo non è un robot quando noi veniamo sottoposti a stress o stimoli esterni una parte delle persone reagisce proprio con l'intestino mentre si cambia l'equilibrio di tutti questi batteri che avevo appena menzionato addirittura oggi si sa che che le malattie croniche sono correlate a dispiosi intestinale qua bisogna dire un concetto che magari nella popolazione non è così conosciuta che il meccanismo sottostante è una infiammazione cronica silente una leggera infiammazione che va ad alterare segnali neurologici endocrinologici ormonali e via andando così e la malattia non è più infettiva ma diventa sistemica affligge i vasi c'è l'obesità ci sono le malattie allergiche per esempio l'asma la dermatite ma anche la ipertensione cardiomiopatie un grande problema nella nostra società è l'autismo il diabete tipo 1 e 2 malattie degenerative del sistema nervoso centrale Alzheimer Parkinson praticamente tutto allora vediamo un po' quali sono i 9 elementi più nocivi per il nostro microbiota e questi vediamo proprio di evitarli se possiamo non prendiamo gli antibiotici lo sappiamo proprio quando prendiamo un antibiotico tante persone ci dicono come sintomo che gli avviene la diarrea proprio segno della dispiosi formatasi in quel momento o dopo la cura ma non solo la pillola anticoncezionale essa è collegata strettamente con retocolite ulcerosa e anche morbo di Crohn cosa vuol dire che altera altera l'equilibrio proprio intestinale e porta anche a infamazioni silente e questo può portare a malattie infiammatorie del colon oppure di tutto il tratto gastrointestinale pensiamo un po' al cloro il cloro disinfetta ma non solo l'acqua ma riduce anche la diversità della flora mentre noi beviamo un'acqua che ci sono anche pochissime concentrazioni di cloro questo cambia il nostro microbiota molto il fluoro anche lui può interferire con la flora intestinale mentre la riduce l'alimentazione è un punto molto importante anche nei bambini se noi apportiamo troppi zuccheri semplici praticamente li mangiamo in eccesso anche questo altera la flora intestinale l'acidosi che proviene da troppe proteine animali tutti gli additivi chimici cibi pronti cibi industrializzati tutte le merendine preconfezionate non dimentichiamo i pesticidi praticamente interferiscono in piccolissime quantità e sono in grado proprio di di non solo di interferire con il lume con il nostro intestino ma sul livello ormonale sul livello della cute sul livello su tutti i livelli ultimo punto non il più piccolo lo stress lo stress sensibilmente altera la flora e viceversa l'apporto di bifido batteria aumenta la nostra resilienza cioè stiamo meglio se il nostro intestino sta bene sempre una buona idea rafforziamo il nostro microbiota come lo facciamo colonizziamo dall'alto bonifichiamo la dispiosi apportiamo i prebiotici cosa sono questi sono sostanze non digeribili ma utilizzate dalla flora intestinale le pectine contenute nella mela con buccia o nei semi di lino vi ricordo il vecchio detto una mela al giorno toglie il medico di torno anche meglio se è grattugiata perché quando è grattugiata le cellule vengono schiacciate la pectina fuoriesce ed è in grado di nutrire proprio i nostri germi ipotetivi non dimentichiamo nella nostra alimentazione l'apporto di sostanze amare che fanno proprio dovrebbero fare parte ogni giorno anche per esempio la cicoria il radicchio i carciofi che sono in grado di favorire la corretta funzione epatica quando c'è il mal di pancino o il mal di pancia ci sono i carminativi sono vecchie ricette ognuno le conosce si fanno degli infusi leggeri di menta con anice cumino finocchio anice stellato cosa fanno questi carminativi riducono questo sintomo un po' sgradevole il meteorismo di stomaco e intestino e sono capaci a stimolare la secrezione salivare e gastrica i probiotici lattobacilli bifidobatteri eccetera ognuno li conosce il farmacista li vende a go go quando è utile somministrarli allora dobbiamo pensare che se lo stress altera la nostra flora e se viceversa aiutiamo la flora preveniamo anche le infezioni e riduciamo infezioni in atto i probiotici sono proprio questi bifidobatteri lattobagilli che si possono dare anche come prevenzione quando pensiamo a un bambino piccolo che probabilmente è tutto a posto la sua flora pensiamo anche alla vivacità e alla sua salute invece nelle fasi avanzate della vita la biodiversità del nostro microbiota è già ridotta e di molto allora nell'anziano migliora le difese ma anche l'umore nel bambino riduce l'incidenza di asma e allergie e si ci si può ricordare in ogni malattia cronica di sostenere l'intestino con l'apporto ecco di lato bacilli bifidobatteri e quant'altro ci porta ad essere sani in una vita lunga va bene per oggi avrei finito volevo fare anche qualcosa di breve grazie mille dottoressa del suo intervento io adesso aprirei il dibattito sono arrivate delle domande e io vorrei ricordare a tutti che se non riusciamo a dare restituzione di tutte le domande che sono arrivate adesso cercheremo un sistema proprio per dare una risposta a tutti quanti e di conseguenza io ho alcune domande che sono arrivate e magari procederei a presentarvele e un'infermiera in questo momento ha inviato una domanda e chiede e qui se volete potete poi vedere tra tutti i partecipanti è una diciamo un dibattito per cui possiamo intervenire tutti perché si definiscono gli asintomatici dei malati ok a mio avviso sta cambiando questa cosa perché si vede che la la nostra direzione sanitaria ha cambiato strategia praticamente a quanto ha capito non verranno più spessati tutti quelli soggetti sani che avevano contatto con un covid positivo qui ancora abbiamo delle nozioni sbagliate a mio avviso sì non si posso dire anche qualcosa la questione degli asintomatici è una cosa molto dibattuta oggi si ritiene che gli asintomatici che potrebbero essere pericolosi per la trasmissione sono forse un 20% dice l'OMS non 42% come dice Crisanti però effettivamente la prospettiva di chiamarli asintomatici di non chiamarli per esempio portatori sani di non chiamarli persone sane dice eventualmente ma questo è stato nella strategia di questa malattia e questo incrementa un po' l'ansia e incrementa un po' l'incertezza diciamo questa incertezza dal punto di vista scientifico c'è insomma ancora non si sa quanti sono esattamente questi asintomatici se effettivamente trasmettono o no certo è che la mia impressione è che finché non avremo un test che sia più diciamo realistico di quello attuale che ci dà una risposta positiva o negativa solo ma ci dovrebbe essere un test che ci dice quanto uno è positivo cioè quanto virus ha quanto virus trasmette all'esterno quanto è infettivo perché finché avremo un test che ci dice solo se uno è positivo o negativo questo crea delle grosse confusioni e purtroppo i test che danno la risposta per esempio sulla carica virale sono test che vengono usati solo per la ricerca e non sono in commercio e questo dato insomma della carica virale o della soglia di ciclo cioè di quanti cicli ci vogliono per arrivare alla positività più sono i cicli e meno uno è infettivo perché se uno arriva alla positività con pochi cicli vuol dire che la quantità di virus iniziale era molto alta ma questo valore purtroppo non ci viene dato questo alimenta l'incertezza alimenta la confusione e poi il fatto stesso è che si fa un test solo non si fanno i tre test i tre tamponi classici che la best practice la migliore pratica medica consiglierebbe il primo test potrebbe essere un passo positivo per esempio io metto in quarantena tutta una classe metto in quarantena un'azienda per un test positivo insomma potrebbe essere un passo positivo questo non è giusto va bene come dice come definisce il ministero le risorse però noi dobbiamo avere test che siano veramente veramente mi aiuta interpretarli noi medici nella maniera corretta ma poi ci vogliono anche dei test che ci diano le risposte giuste se io per esempio prendiamo un'infezione delle viobinarie se io faccio una urinocoltura oggi mi danno la risposta non dimentico che è positiva o negativa mi dicono quanto è positiva perché se è positiva per non so per al di sotto per esempio dei 100.000 bacilli delle colonie per 1.000 litri io so che è una contaminazione quindi se è positiva sopra un milione per esempio di un'interformante colonie per 1.000 litri io so che invece è probabile che quella sia effettivamente un'infezione di urinarie e mi dicono anche a qualche antibiotico quel germe che corrisponde questa sarebbe la microbiologia seria quella che ci propone adesso è un po' un test un po' diciamo chiamiamo parloco insomma perché non ci dà tutte le sposte che dovrebbe secondo me ci dà questo scherzo di definire persone sintomatici di farci vedere tutti i degli untori potenziali cosa che purtroppo è il problema di questa pandemia grazie se posso procedo con la seconda domanda che è arrivata dalla signora Laura la quale chiede cosa comporta il patto di responsabilità che le scuole chiedono di firmare i genitori dottor penso dottor Biasi io allora il patto di responsabilità è un patto che è nato con un decreto del Presidente della Repubblica del 2007 che era nato per contrastare solitamente il fenomeno del bullismo quindi c'è pensato di fare sottoscrivere ai genitori una sorta di impegno reciproco tra progetti e genitori proprio per questo scopo è un patto che non ha una come dire una valenza giuridica vera e propria non è un'adesione al contratto non è nulla un fatto nel quale nulla da punti di vita giuridico e per poco pregnante perché questo prima perché mancano delle sanzioni se un genitore non lo sottoscrive non per questo per esempio c'è una mancata iscrizione scolastica o altro per cui questo è un patto come dire una raccomandazione può valere come una norma etica una norma una norma un patto per gentiluomini non ha questa non avendo questa valenza giuridica in termini di sanzioni io credo che se qualcuno non vuole firmarlo non credo che ci siano nessuna conseguenza ecco poi questi patti sono stati allargati anche ovviamente all'emergenza covid e quindi prevedono tutta una serie di addentimenti di facoltà che la scuola si riserva di porre in essere proprio in virtù di questa emergenza io ritengo che sia legittimo nell'ambito di un patto come dire formativo o educativo credo che siano legittime anche perché insomma viviamo in un mondo che è come dire nel quale ci siamo tutti per cui non mi sembra di dover sollevare chissà quali obiezioni al fatto che la scuola si riservi di adottare anche unilateralmente le misure le misure del tipo sanitario e credo che invece su queste misure una buona classe per esempio io l'ho fatto sia qui come io sono figlio di 12 anni che frequenta la seconda media potrebbe essere quello di scrivere una nota mettere una nota aggiuntiva alla scuola dicendo quali parti del patto io non intendo sottoscrivere o comunque mi riservo di verificare in seguito perché se la scuola si dovesse prendere delle come dire dovesse prendere e adottare delle misure che per esempio io non condivido perché magari non vengono vengono coinvolti i minori in modo improprio io credo che posso anche dissentire da questo e chiedere contezza alla scuola però ecco non è niente di una cosa che comunque è prevista da un decreto presidente della repubblica finora ha sempre funzionato nel senso che mi pare così in via di massima di poter dire che ogni cosa che per funzionare deve funzionare un po' con il consenso insomma deve funzionare più che con l'imposizione dovrebbe essere condiviso oggi la parola condivisione si usa in tanti campi per cui non mi sembra una cosa come dire così terribile insomma da mettere se quale allarme ecco ripeto si può secondo me risentire legittimamente su alcuni punti basta rendere dopo la scuola e dire su questo per esempio non ci sto oppure magari guisatemi prima eccetera ecco così non andrei un po' a un po' Grazie a tutti. 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 Io sarei molto più liberale e quelle delle norme ad hoc, effettivamente, però non lockdown, non limitanti l'economia, se non per discoteche e locali dove effettivamente non si possono rispettare le distanze in tutto il momento. Grazie. Grazie a tutti. Come avvocato più che altro io chiedo adesso. Grazie a tutti. Tutti l'abbiamo visto. Grazie a tutti. il biglietto di spostamento, i biglietti di accedere, per esempio, anche il lavaggio delle vetture, c'è gente che veniva multata. Purtroppo in questo delirio di biglietti, ognuno ha creato un po' la propria norma. C'era una norma magari governativa, poi il governatore, uno si faceva la sua norma, il sindaco se ne faceva un altro, il legge urbano se ne faceva un altro. Quindi erano tutte norme che derivavano da un potere, diciamo, basato sulla legislazione d'urgenza, con decreto legge. Alcune è stato archidato, ha dato molto al Presidente del Consiglio dei Ministri e la possibilità di introdurre con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non è nemmeno un decreto collegiale del governo, ma un decreto superpersonale, come figura istituzionale, introdurre nuove norme, quelle che apparevano al momento le più adeguate, per evitare anche che un'emannazione di queste norme sia la possibilità di emanare. Abbiamo visto che il DTPCM sia non stato emanato artistico. Ora, l'emittazione della libertà in realtà in continuazione possono essere disposte soltanto per la dichiarazione del fatto di guerra, ma non per altre cause. Ci sono delle norme per salute che attribuiscono al Consiglio all'autorità sanitaria e la possibilità di emanare le istituzioni particolari. Però, ripeto, sono norme che possono avere una validità temporale, che non possono essere estese per chissà quanto, perché capite benissimo che il diritto di lavorare, il diritto di uscire di casa, il diritto di avere un locale, sono delle limitazioni che sono enormi, sono spalimpose. nessuno potrebbe sopportarle per nessun tipo di emergenza che il suo esempio è in sanitaria. Una volta c'erano, oggi si parla del coprifuoco, poi ti dicono che non è il coprifuoco, che bisogna fare attenti con le parole, ma in realtà, scusate, ma è così, andiamo in giro per le città. Io esco adesso dalla calea del rotto Capelletti, vedo una città deserta, con la gente che ha paura di andare in giro. Ecco, queste limitazioni di libertà, io so che ci sono state anche delle denunce da parte di avvocati, dei comitati, non so che scopo, comunque, che tipo di esito possono avere queste denunce, e non so quanto siano penalmente rilevanti queste, diciamo, così piccole di mente. So però che non può essere tollerato un altro lockdown, sarebbe devastante per tutti, ma di questo se ne accorgono anche chi ha la responsabilità di governo. Non posso intervenire all'integrazione di quello che la domanda di prima del collega a quale va la nostra centralità, per il lavoro che deve fare. Il problema è questo, siamo sicuri che in questo momento, in tutta Italia, c'è un sistema di tracciamento adeguato dei contagi? Io non sono così certo, perché vedo che in Trentino ci sono, anche nel nostro civissimo Trentino, ci sono tantissimi punti sui quali io avrei da dire. Siamo sicuri che un lavoratore autonomo sia alla febbre e stia a casa? Io non sono mica sicuro, e non credo che ci siano misure per il lavoratore autonomo che viene compensato per il danno economico che perde stando a casa. Cioè, vuol dire, si vanno a stigmatizzare dei comportamenti personali, la mobilia, queste cose qua, e dopo lo Stato cos'è che fa concretamente? Cioè, com'è che abbiamo raffrontato i sistemi di tracciamento, che sono una cosa fondamentale nel contenimento dell'epidemia? Non credo che siamo arrivati, perché l'unica cosa che serve a questo, è il tracciamento, e identificare i veri malati, non si possono stare dietro agli asintomatici, bisogna identificare e stare dietro ai veri malati quando c'è un'epidemia di questo tipo, quando adesso, non so, la curva, io spero, vedo, si fermi così e scendere. Però, bisogna stare dietro ai veri malati, e quelli che sono, i veri intori sono i malati, non sono tanti gli asintomatici, gli asintomatici, sono stati in tutte le malattie, probabilmente, durante il periodo di influenzare, noi, tutti noi, produciamo una certa quantità di virus influenzare, anche se non siamo malati, in quantità non infettanti, perché adesso non siconosciamo esattamente qual è la dose impettante del virus, la carica virale impettante, però, del virus SARS-CoV-2, però, voglio dire, noi sappiamo che, in tutte le epidemie di influenza, noi produciamo una piccola quantità di virus, e chi più, chi meno, anche quelli vaccinati, pare che ne produttano di più degli altri. Vabbè, comunque, siamo sicuri del sistema di tracciamento che funziona, io non sarei così convinto che a Napoli funzioni per esempio come a Trento o come a Bolzano, per esempio, che già da noi, vedo che per fare un tampone, aspettano anche due giorni, se non di più. Grazie, la ringrazio per l'intervento, io avvolgerei adesso la conclusione, sappiamo che non abbiamo risposto a tutte le persone che in questo momento si sono collegate, perché abbiamo raggiunto 91 persone attraverso questo dibattito, e questo, diciamo, essendo dibattito, ha portato questi punti di vista delle persone che hanno partecipato, e si vorrebbe concludere, però, con un saluto della Sindaca, la volontà è quella, appunto, di fare, proprio concludere con un arrivederci, cioè dare la possibilità a tutte le persone che però hanno mandato le domande, la possibilità di poter dare una risposta, e magari potremmo, non so se lei è d'accordo Sindaca, vedere di trovare magari una metodologia di raccolta, oppure dare la possibilità proprio a tutti i punti di vista e le domande che sono pervenute, erano di diverso tipo, dalla scuola, diciamo, però la cosa che appunto vorremmo dare spazio a questo dibattito, e in questo momento magari non è possibile farlo, magari anche più avanti. Questa magari sarebbe la volontà delle persone che hanno organizzato questo tipo di incontro e che avrebbero piacere magari di farlo possibilmente in presenza se tutto questo potrà, diciamo, superarsi in poche settimane. Però avrei piacere di non concludere io questa serata, ma passare la parola alla Sindaca Giorgia Mongillo e magari chiedere anche a lei un feedback di quello che appunto è stato detto questa sera. Mi sente? Sì, mi sento. Grazie. Allora, sicuramente la modalità online è sempre un po' difficile, non sempre permette alle persone poi di dibattere veramente sull'argomento, pertanto appena avremo la possibilità ancora di ritrovarci sicuramente ci sarà ancora la possibilità anche da parte del Comune comunque di sostenere questo tipo di iniziative che devono comunque sempre portare al confronto e anche poi a trovare delle proposte anche concrete per risolvere i problemi che si sono che si verificano. Questo mi piacerebbe perché effettivamente questa sera ancora magari manca questo spunto di riflessione abbiamo sentito cose che non vanno bene ma abbiamo anche dall'altra parte delle leggi qui a tenerci io parlo adesso anche come come sindaca che ha anche il dovere di così recepire quelli che sono poi tutti i decreti e tutte queste le ordinanze e poi di attuarle anche sul proprio territorio però al di là di questo dobbiamo anche è vero avete anche ragione a trovare forse degli altri spunti concreti per aiutare anche le persone che si trovano in questa situazione come i bambini come i giovani come le persone anziane o le persone isolate e su questo mi piacerebbe forse che in futuro si potesse invece insieme trovare anche dei momenti di incontro per trovare delle soluzioni quindi questo è il mio augurio insomma per tutti veramente di di andare anche oltre di riuscire veramente ad aiutare tutta la comunità con delle proposte concrete quindi vi ringrazio intanto di questa serata e a tutti buon proseguimento benissimo io vorrei ringraziare ogni singolo partecipante di questa serata ringrazio dottore capelletti l'avvocato Biasi la dottoressa del lago la dottoressa della sega e la sindaga mongillo vi ringrazio per la partecipazione anche a tutte le persone che si sono collegate e come abbiamo detto ci salutiamo con un arrivederci e auguro a tutti una buona serata grazie 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 grazie